In primo piano il grave incidente è avvenuto questa mattina a Taranto. Una ragazza di 17 anni nata a Bari, Isabella Fracchiolla, è precipitata in mare sull'abbasamento di pietra e cemento a pelo d'acqua, cadendo dal parapetto della rotonda del lungomare di fronte alla prefettura. La ragazza che ha fatto un volo di oltre 10 metri è stata soccorsa dal 118 ed è ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Pare che la 17enne fosse in gita scolastica e con alcuni amici stava scattando fotografie sul parapetto. Ad un certo punto ha perso l'equilibrio.